Mentre dalla convention repubblicana che ha scelto Trump come candidato presidenziale inizia la retorica dell'uomo che riuscirà a fermare il conflitto parlando direttamente con Putin, sul campo in Ucraina continuano gli attacchi. Un drone ha colpito una fabbrica di componenti elettronici a Kursk non lontano dal confine. Qui oltre alla guerra c'è anche il caldo a non dare tregua. Nel sud del paese le temperature superano i 40 gradi e un po' ovunque manca l'elettricità con blackout non programmati. E la Russia continua a prendere di mira sistematicamente le centrali ucraine. Dall'inizio dell'invasione russa sarebbero stati distrutti 9 gigawatt di capacità secondo le denunce del presidente ucraino Zelensky. In questo quadro il presidente ungherese Orban che nei giorni scorsi da presidente di turno dell'Unione Europea ma senza ricevere un mandato dalle istituzioni europee ha incontrato il presidente russo Putin, il leader cinese Xi Jinping e l'ex presidente americano propone che sia proprio Trump a svolgere il ruolo di mediatore tra Mosca e Kiev. In una lettera inviata ai leader UE il premier ungherese ha menzionato e lodato un piano per la pace che sarebbe stato elaborato dal candidato repubblicano. Pronta arriva la reazione del portavoce del cremlino Peskov. È prematur ipotizzare una futura mediazione del candidato repubblicano qualora venisse rieletto presidente degli Stati Uniti.